Salve a tutti ragazzi sono Juve Gabri e siamo qui per il quinto episodio della carriera allenatore. Oggi affronteremo la Lazio per il derby della capitale e poi in c'è il vittorio a Bolzano. Sparta per il derby, questo lo dobbiamo vincere, serve se lo vinciamo, serve davvero tanto. Roma-Lazio, dai partiamo male. Nessuna delle due squadre, siamo palla, dai, niente, ancora lontano, c'è il vipoia, lontano. Eh, è il vipoia, lontano, perdono, che buono, vai, metti in mezzo, vai, no, brata abbiamo iniziato bene, angolo, vai Zanzi, è tua, anticipato. Attenzione, ok, buona, bravo Zanzi, under, pastore, ancora per under. Taggi, come mi recupero una faccia, colta partita per adesso, pochi tiri, però lì Clivert è solo, l'ho visto, hi Clivert. Bravo Clivert, in mezzo bene, tutto bene, sono il cross, c'è la cosa più importante, la fa cacata. E poi ovviamente, ma perché la prendono sempre loro? Niente, buona Zanzi per under. Niente. Che fa? Niente in mezzo, non so mai, un po' di cuore. Menzo Zanzi è tua! Niente, perché sei alte e non le hai prese? Radu, immobile, Luisa Alberto. Oh, buono, Zanzi. Pastore? Stop, è tiro! Quasi che bello per stragoci. Vai che buono! Attaccio l'ultimo passaggio, che poi la dovevo mettere in mezzo, l'hanno intercettato. L'avevo un po' di anticipato. Ma che schifo, che è sta cosa? Finisce il primo tempo. 0 al 2. Ripartire con i secondi 45 minuti. Facciamo entrare El Sharawi. A posto di Clevert. Andare e lo facciamo stare un altro pochino. Questa volta ha portato la Lazio. Attenzione. No! Oh, ma non era fuori gioco? A me sembrava fuori gioco. Però ok, l'abbiamo recuperata. Ok. E' buona. Ma che schifo! No dai, ma che cos'è? Cioè era solo, contro Stragoscia, se l'ho allungata così. Tanto per. Vai il Sharawi. Buona. E' il gol. E' il gol. Adesso ne ha fatto uno bellissimo. A giro. Ok, il nostro. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto Florenzi? Come hai fatto quello? E' il nostro. Perchè? Che hai fatto? Bruttissimo ripio. Che stiamo facendo? Che stanno facendo? Bravo, il Sharawi. È di dietro. Pas-to, non ci credo. Non ci credo. Nemmeno l'angelo, guarda. Fate proprio schifo. schifo vai under, è tua vai in pieno però ancora under De Rossi non volevo farti da De Rossi perchè era una uscita una cacata prendiamo sta palla ma era ben ucciso esce Luis Alberto rossi che rossi buona dai la riesci a prendere è buona non lo so tu finisce vinciamo il derby 1 a 0 però basta per vincere il derby pronti per la seconda giornata di Champions League il Vittoria Pozzana aveva perso contro il CSKA infatti siamo Roma e Vittoria Pozzana a 0 e CSKA e Real Madrid a 3 cerchiamo di vincere anche il Champions la prima vittoria in Champions League il campionato però adesso siamo ancora imbattuti invece in Champions League abbiamo già perso una tre meritatamente secondo me faccio un po' di cambi perchè stanno un po' tutti morti cioè praticamente dobbiamo cambiare quasi tutti però ok partiamo all'Olympico benvenuti a questo match della UEFA Champions League gara che potrebbe fornirci già indicazioni importanti sul futuro delle squadre si parla anche se siamo appena la seconda giornata prova a cambiare gioco Henderson pelagrini rioflorenzi provano aprire in mezzo qui di Gabriel Jesus uh vai Clivert che buona ok ok fuori gioco si ah è buona per i pellegrini ok quello è morto è morto anche i pellegrini però lo freghiamo? metti in mezzo bene rientra all'impallo quindi va andare all'oscuro allora la palla infatti il forchiere di pugno allontana pellegrini pellegrini attenzione la palla è lì no florenzi pellegrini no 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 perché hai sbagliato quel passaggio tu mi sei ritrovato da solo contro il portiere vai Clivert Roma che attacca ancora lateralmente ferma l'azione recupera il pallone ok 35esimo però adesso 1-0 si 1-0 ci va bene perchè comunque perchè comunque si ha 3 punti però però possiamo fare 2-0 è buona è buona ancora 1-0 ok finisce il primo tiro 1-0 l'arbitro manda più l'arbitro manda più pronti per secondo tempo squadra che trovano in campo un match valido per la seconda giornata della fase di gironi della UEFA Champions League di non ci possiamo ricoperare da un momento all'altro ok fino a quando fanno queste cose? va bene fino a quando fanno queste cose? a me non va bene ok che frenza è tua dai no gliel'ha messo mamma mia cosa ha fatto Olsen no ancora Olsen che culo angolo ancora ma un po' si si è accesa la lampadina inizia la giocherebbe tutta l'altra via ok niente ancora Olsen che è sto schifo ok non avevo detto cosa cos'hanno fatto 0 incredibile che bello cosa sta succedendo guarda qua perché spazzo in faccia con il Jesus poi la palla di Matthew Stark che sbagli fortale due gol uno bello e il nostro però l'importante è il segnare anzi l'importante è vincere però adesso è quello che stiamo facendo anche se io non starei comunque sicuro perché mi ricordo che nello scorso episodio stanno vincendo 2 a 0 quanto il Flosinone andiamo a bordo campo Matteo e poi gli altri hanno pareggiato proprio quella partita l'abbiamo detto comunque dai che possiamo fare il 3 a 0 vai Kluivert vai Kluivert vai Kluivert no più così palla in out sarà calcio d'angolo per la Roma che buona questa cosa me la sento che è buona Florenzi nooo si salva che sventa il tizione sulla difesa cerca con questo lancio proprio sto pazzo la difesa alla meglio e allontanati 15 minuti al 90 ma cosa fa Madò ottimo lavoro Matteo come sempre grazie che sono scarsi tutto facile qui per il Tino e il Tiki Taka alla ricerca del momento giusto troppo lunga esce e recupera il PNAUT si ricomincia con la dienza Ferraro facciamo qualche cambio perchè saranno tutti morti infatti c'è entrare lasciaremo qui under poi mettiamo Cristant qui c'è c'è ciò cominciò ci facciamo entrare i rossi ok ma che buona taccino volevo fare quella skill però non ho da quella parte dall'altra dai che è finita vediamo quanto tempo quanti minuti delle coup buono Due minuti che potrebbero regalarci ancora emozioni e spettacolo Buona E' buona E' buona E' buona Abbiamo l'occasione per fare il 3-0 Vediamo Palo sulla linea La mette alle spalle del portiere Ed è chiusa la matita anche se non è finita ormai 3-0 Distinto, vittoria poesia Finisce qui La prima vittoria Vediamo il Real Madrid cosa ha fatto contro il CSKA 2-2 Grande CSKA Mosca 2-2 I nostri soliti allenamenti Questo episodio può finire qui Se vi è piaciuto lasciate un like E per non perdere gli altri episodi Iscrivetevi al canale Ci vediamo al prossimo episodio Iscrivetevi al canale Ciao Grazie.